ragazzi mi raccomando qualora vi facesse piacere iscrizione al canale gratis e attivate la pannellina allora nessuno però dice la partita di ieri che viene stoppata un'azione dove eh Tikus Turam dà una palla a Lautaro che lo mette in porta Lautaro solo davanti a porta e l'arbitro fischia questo non lo sento dire da nessuno gol di Di Marco è regolare non rompete le scatole cosa vi a cosa vi attaccate parlo ovviamente ai nostri detrattori delle altre squadre a cosa vi attaccate col di Di Marco regolare ricordatevi anche che ripeto Turam manda in porta Lautaro Martinez Lautaro solo davanti al portiere l'arbitro fischia e ferma l'azione quindi di cosa vogliamo ragionare cosa mi è piaciuto tanto che l'Inter ha vinto soffrendo ma questa queste partite queste tipologie di partite l'anno scorso difficilmente le portavi a casa e questi sono segnali molto ma molto ma molto importante anche perché rispetto all'anno scorso davanti abbiamo due attaccanti mobili Duram e Lautaro Martinez che ti permettono di giocare diversamente rispetto a quello che facevamo l'anno scorso soprattutto quando c'era Miglio Verde Miglio Verde Luca con lo stesso Dzeko che comunque non ti può dare quell'esplosività eh quella profondità eh così velocemente non ti fa guadagnare i tempi di gioco così velocemente come può fare Turam poi Dzeko ti offriva prestazioni diverse ti dava altre cose rispetto a Turam sicuramente ragazzi purtroppo eh io ehm dopo il Milan l'ho detto dopo una vittoria Roboante ho detto ragazzi sì ottima rosa ma fino a a un certo punto ottima rosa sicuramente ma c'è un video di tre giorni fa te l'ho detto io ho tantissimi difetti anzi io ho molti più difetti che pregi lo so ora voi non lo sapete ma ve lo dico io io sono uno che ha molti più difetti che pregi ma difficilmente mi smentisco io ho detto tre giorni fa tutti a parlare di questa ottima rosa sì ma una parte della rosa è un' incognita l'incognita per me sono il signor il numero sette che era la Juventus che già si è fatto male non è nemmeno incominciata la stagione Sanchez lo stesso Arnatovic lo sapete io non l'avrei mai preso no anche lì Giuseppe ma perché non c'erano soldi ma chi prendevi volevo ricordare comunque Arnatovic è un'operazione complessiva di circa venti milioni ragazzi non c'era nulla di meglio con venti milioni da prendere operazione complessiva ingaggio cartellino e quant'altro quindi Arnatovic Sensi Sanchez quadrato ricordatevi anche che l'Inter ha solo un centrale difensivo fortissimo sull'uomo a trentaseghi anni si ama cerbi cioè capito poi se te mi parli Carlos Augusto sono il primo a baciare in terra tra l'altro Carlos Augusto Mancini ha fatto carte false per portarlo in nazionale italiana non c'è riuscito perché lui sembra che aspetti ancora il Brasile se poi mi parli Carlos Augusto Fratesi Turam sono stati il primo io a sponsorizzare questi giocatori quando non erano nemmeno in orbita Intel mi piacciono tantissimo però la grande rosa di cui si parla aspetta venendo a signora Arnatovic che comunque quando io dicevo mette scena alle voci di acquisizione no su questo calciatore occhio perché ha saltato sei mesi a Bologna a 35 anni è un personaggio un po' particolare capito quando poi l'ho visto giocare la prima volta Arnatovic soprattutto quando in Spagna ha fatto massacrare Lautaro di Corsa perché lui non correva perché in Spagna Lautaro primo tempo si è massacrato perché lui non corre comunque se lo vuoi sapere dalla prima volta che l'ho visto giocare che Arnatovic chiedeva al suo fisico giocate impossibili anche lì scarta ieri scarta va avanti secondo me si tocca il bicipite femorale occhio scarta pum e si strappa non non sono giocatori non è non sono ora dirlo ora è facile io ve lo dico da prima sono stato anche attaccato non sono giocatori da prendere non sono operazioni da fare Giuseppe ma non ci sono soldi che potevi prendere ma non ti può ma non puoi prendere due attaccanti di 35 anni perché poi siamo con due attaccanti ora ragazzi siamo con due attaccanti due vuoi che ti conti Sanchez Sanchez è un giocatore che due anni fa con lo stesso conto era sempre infortunato andava in nazionale tornava e si infortunava a 31 32 ora a 35 anni quando Sanchez sta bene devi stare attento ad usarlo perché se spingi troppo su Sanchez è un altro giocatore che si fa male capito perché dicevo sì rosa ottimo capito ma 4 5 sono incognite purtroppo lo stesso senso che adoriamo tutti no si è rifatto se si è rifatto male ha continui problemi quindi un'ottima rosa ok a livello di nomi ma a livello poi dopo pratico bisogna stare attenti la soluzione ora quale sarebbe prendere uno svincolato sono impresentabili per sono tutti i giocatori la maggior parte questi svincolati che vengono da infortuni per renderli potabili ti servono due tre mesi dove vuoi andare dove vuoi andare anche Steve vuoi promuovere Sarri in primavera ok è forte bravo ma è gracilino è un metro e novanta ma c'è è un ragazzino del 2004 lo schiaffi prima squadra cioè è rischioso allora ci sarebbe una soluzione cambiare modulo la vedo difficile Izaghi secondo me difficilmente rinuncerà alle due punti Izaghi non lo schiodi a 3 5 2 Giuse può fare 3 5 1 1 abbiamo Mkhitary a mezza punta classe lo so anch'io ma la vedo difficile Izaghi rinunci proprio al suo metodo di gioco con le due punte capito veniamo al minestrone di tutto sport continuano i minestroni di tutto sport dove i sauditi sarebbero Invescorp e Mubadala io mi dissocio da certe cose dice tutto sport addirittura la perla mattutina passivo bilancio 80 milioni ok ci siamo tutti nonostante tutti i soldi i 100 rotti milioni e sono arrivati l'Inter perde 80 milioni se l'Inter fosse andata fuori ti faccio un esempio primo turno di Champions avrebbe preso 200 milioni anche quest'anno capisci non era più possibile andare avanti non puoi continuare a fare debiti senza immettere capitali non te lo puoi più permettere c'è solo il fallimento questa è una strada che ti portava solo al fallimento punto e basta la perla di tutto sport stamattina è che stanno facendo la due diligence però Zang non ha rinunciato ancora a rifinanziare quindi loro stanno spendendo una due diligence costa un milione un milione e mezzo farlo di diligence stanno spendendo un milione e mezzo però Zang ancora scrive tutto sport sta pensando a rifinanziare e via e via andiamo su ma faccia ma facciamo la finita di dire queste bagianate dai poi si eh Mubadà ragazzi quando quando Invescop Firenze tratta il Milan Mubadà la era già dentro se Mubadà la voleva investire nel calcio prendevano il Milan per come la vedo io Milan no cioè il Milan ci sta sui coglioni a tutti ma non è è la reggiana quindi Mubadà la per come la vedo io nel calcio italiano difficilmente investire altrimenti prendevano il Milan c'era già dentro Invescop c'era un 20% oppure entravano loro direttamente ora invece no il Milan no ma prende l'Inter però sono sauditi però i soldi attenzione vengono dai sauditi l'offerta da un miliardo e tre di un fondo saudita però poi dopo c'è Invescop con Mubadà che sono sauditi poi c'è la due diligence però Zang non ha rinunciato alle finanziarie chiudiamola qui stanno facendo un minestrone assurdo questa è disinformazione ragazzi questa è la classica disinformazione di tanti giornali sicuramente hanno visto che tira questo argomento e ci stanno marciando sopra non lo so ma almeno preparatevi prima di scrivere le cose ciao Inter Invescop